Isola dei famosi 2018 Isola dei famosi 2018, liveblogging con un'ora di anticipo e scherzo ai naufraghi che credevano di partire 24 ore dopo L'Isola dei famosi è partita ufficialmente e ma con un'ora di anticipo, almeno secondo il sito ufficiale, e un giorno prima, per i naufraghi Isola dei famosi 2018, aggiornamenti sul sito ufficiale con orario sbagliato Come accaduto per il grande fratello VIP2 anche l'Isola dei famosi 13 può contare sul liveblogging sul sito ufficiale Chi, però, si è collegato subito online dopo l'inizio della diretta su Canale 5 avrà notato una particolarità, l'orario di inserimento dei post non corrisponde a quello del tempo reale ma porta 60 minuti di anticipo Un errore curioso che non è stuggito ai più attenti internauti Isola dei famosi 2018, scherzo ai naufraghi con partenza anticipata di un giorno I concorrenti credono che, per problemi tecnici, sia stata rinviata a martedì la prima puntata. Alessia Marcuzzi si collega con loro Le ragazze sono molto tranquilli, non immaginano certo di doversi lanciare dall'elicottero da qui a qualche minuto All'annuncio dello scherzo, in realtà poco riuscito, sembrano tutti entusiasti e la conduttrice chiama le prime cinque naufraghe che devono raggiungere la playa L'isola dei famosi 2018, quali sono i concorrenti?. I VIP naufraghi sono Francesca Cipriani, Showgirl, Alessia Mancini, ex Velina, Jonathan Cascanlian, presentatore, Chiara Nasti, blogger, Giucas Casella, mentalista, Amaurice Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di Colorado, Filippo Nardi, ex bieffino e produttore discografico, Bianca Azzelli. Lei, cantante, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di uomini e donne, Nadia Rinaldi, attrice, Eva Enger, attrice e showgirl, Francesco Monte, ex tronista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Gaspare nome d'arte di Nino Formicola, del duo Gaspare e Zuzzurro, Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Craig Guardic, sensitivo. Grazie a tutti.